E' un po' così che si lavora nel mondo dello human resources, si guarda la persona che stia davanti non tanto quanto un utente X ma quanto effettivamente un valore che può portare con le proprie capacità ad un'azienda? Sì, assolutamente sì, il nostro lavoro ha proprio questa caratteristica affascinante che per certi versi può sembrare pesante, tra virgolette, ma invece il grande valore aggiunto è che degli assets aziendali noi trattiamo il più delicato, il più complesso ma anche il più affascinante, quindi le persone umane. I dipendenti sono prima di tutto persone poi lavoratori, quindi avere il focus e l'attenzione sulla persona, sulle idee della persona, sulle emozioni, sulle capacità e anche sui limiti invece da superare insieme è assolutamente fondamentale, così com'è assolutamente fondamentale nell'ufficio HR vivere come squadra, quindi l'esperienza dello sport sicuramente è accomunata dalla nostra realtà proprio per il lavoro di squadra. Solo con una squadra ben affiattata si potrà essere una squadra vincente per l'ufficio risorse umane ma soprattutto verso i nostri clienti che sono i nostri colleghi dipendenti.